Grazie, grazie e benvenuti a tutti. Il video sicuramente è molto esplicativo di quello che vogliamo lanciare e vogliamo fare assieme. E soprattutto è una grande opportunità di condivisione perché penso che oggi tutti noi abbiamo bisogno di una maggiore consapevolezza sul fatto che è vero che tutti dicono prevenire è meglio che curare, però oggi non ho ancora visto la vera prevenzione, sia in Italia che nel mondo. Pochissimi parlano di prevenzione. Probabilmente si parla di prevenzione quando magari dice vai a farti l'analisi per vedere se sei malato, se hai un problema. Pochissimi hanno gli strumenti probabilmente adatti per fare prevenzione, per evitare il problema. E come sappiamo una delle grandi opportunità che abbiamo è quella di conoscere, condividere e riuscire a migliorare la qualità della vita delle persone. Quando parlo di questo grande sogno e dico sempre nulla accade se prima non si sogna, parlo anche di questa frase che moltissime volte avete letto in tutti i libri di crescita e sviluppo personale, questo grande niente di splendido fu mai realizzato da coloro i quali osarono credere che dentro di loro ci fosse qualcosa di più importante che le circostanze. Questo dovrebbe essere un messaggio importante da capire. Allora quando parliamo di prevenzione e quando parliamo del fatto che il DNA non è il tuo destino, io penso che un approccio multidisciplinare per la prevenzione sia importante di attuarlo adesso senza rimandare a domani. Allora se è vero che l'ambiente, la nutrizione, l'ultraceutica oggi è dentro quello che noi chiamiamo inquinamento, che non è come vedremo da quello che ci daranno i relatori, io faccio una relazione tecnica, non faccio certo una relazione medica, quindi i relatori che poi parleranno di clinica, di ricerca, vedremo che il fattore determinante di tutto poi è l'inquinamento. Quando sento parlare di dieta, seppur importante, fondamentale per gestire il paziente, oh tu non gli puoi cambiare la casa dove vive, la città dove vive, il lavoro. Non è così facile cambiare questi fattori, questi parametri, siete d'accordo? E allora ormai l'inquinamento è entrato anche nel ciclo biologico di tutto quello che mangiamo, di tutto quello che beviamo, di tutto quello che respiriamo. Allora le persone più vive, motivate, realizzate sono quelle che cercano di condurre una vita a volta al contributo e al servizio di qualcosa di più grande di loro. Cosa c'è di più grande di noi che essere di aiuto per migliorare la qualità della vita delle persone? Si diceva il grande messaggio, noi siamo gocce nell'oceano, lo diceva madre Teresa di Calcutta, ma senza quelle gocce l'oceano non esisterebbe. Allora la vita è urgente e quando la vita, dico la vita è urgente, che tra l'altro è la prefazione del libro La modulazione fisiologica di Ossigeno on Demand, che è anche qui presente, dico la vita è urgente perché il tempo passa e noi non possiamo rimandare, essendo così consapevoli di quello che sta accadendo oggi nella nostra società a livello globale. Ci sono le isole di plastica, l'aria è sempre più contaminata e si continua a far finta di nulla, come se questo non esistesse, siete d'accordo? Poi, come ormai le ricerche scientifiche dimostrano, io lo dicevo 25 anni fa, gli ambienti chiusi, dove si vive e dove si lavora, sono più inquinati rispetto all'esterno delle tre, le quattro, cinque volte. Sempre più chiusi, sempre più ermetici, con aria condizionata, no? Guai a quelli delle finestre, sia perché oddio vi entra il freddo, oddio, fa caldo. E poi il microclima ideale, parametri fondamentali per capire se l'aria è buona o no, e non ne sento mai parlare, è la ionizzazione dell'aria. Ioni negativi dell'aria, come natura crea, e non ne parla nessuno di ionizzazione. Avete sentito parlare di ionizzazione? Poi pochissimi la conoscono, perché l'ionizzazione deve essere terapeutica, deve essere associata a delle frequenze, non ci devono essere filtri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, parametri fondamentali della qualità dell'aria, nessuno ne tiene conto, microclima ideale, ionizzazione. Potrei andare avanti tantissimo, ma il tempo è tiranno. Allora, il DNA non è il tuo destino, tutte queste cose condizionano la nostra salute. E nel 2001, come sapete, è uscito questo articolo, ormai sfruttato da tutti, ma è interessante. E il time diceva, attenzione, il DNA non è il tuo destino. Ma se io vi chiedo, quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento, voi cosa mi dite? Cinque minuti fa ce l'hai detto te. Quanti tipi di inquinamento conoscete? L'inquinamento dell'aria, l'inquinamento dei cibi. Ogni giorno esce una dieta. L'acqua che beviamo, la postura, sappiamo quanto sia importante, siamo sempre seduti o sdraiati. O seduti o sdraiati. Non si ha più neanche il tempo di fare shopping. Siete d'accordo? Neanche più quello, cioè. Neanche più quello di andarsi a fare una bella passeggiata. Tutti al supermercato a fare tutto di fretta. L'ambiente in cui viviamo, si salvi chi può. E poi la cellulina sulla torta, i campi elettromagnetici, le radiazioni, il luce, il sole. Ormai ci stiamo dimenticando il ruolo della luce e del sole. Eppure la luce cura. Il sole cura. Non è che il sole fa male. Dipende quante ore ci stai al sole. Se fai la luce a Ertola probabilmente fa male. Ma il sole è fondamentale. Come la luna, non ne parla più nessuno. Il ruolo della luna, condizionare le maree, la nascita dei bambini. Mi viene sempre in mente mio padre quando parlava di quanto fosse importante seminare un giorno o l'altro, prima della luna, dopo la luna. Adesso vai al supermercato, non serve più la luna. C'è tutte le stagioni. E poi l'apnei, quanto sia fondamentale. Ne parlavamo ieri di una riunione pre-congresso. Fondamentale è quello che pensiamo. Ma anche la coerenza tra quello che pensiamo e quello che facciamo. Che è ancora più fondamentale. Quanta coerenza c'è oggi al nostro mondo. E poi l'ossigeno è la fonte di vita. Ecco, quando parlo di ossigeno, io capisco tutto. Capisco la dieta, del momento, tutto quello che vogliamo. La dieta, lo stile di vita, l'ambiente. Però facci capire il ruolo dell'ossigeno per la nostra vita, per le nostre cellule, per i nostri mitocondri, per la nostra salute. Non ne parla nessuno di ossigeno. Carenza di ossigeno provoca acidosi. L'acidosi provoca il stress ossidativo, il stress ossidativo provoca l'infiammazione. Tutto parte, come dice il grande Sergio Stagnaro, uno dei più grandi clinici che abbiamo in Italia ancora oggi, 88 anni, e al cui manderei tutto il mio caloroso amore. Vi invito a fare un applauso perché Sergio Stagnaro, come sapete, si è sentito poco bene all'ultimo congresso di Bologna, ha avuto un arresto cardiaco, si è ripreso. E' ancora oggi lì che scrive e chiede di essere ascoltato. Ascoltato perché probabilmente se prevenire è meglio che curare, capire che c'è una concausa tra ambiente epigenetica e disfunzione mitocondriale e reali rischi congeniti, probabilmente potrebbe fare la differenza per tante persone. Perché non si nasce tutti uguali, siete d'accordo? Allora, se non si nasce tutti uguali e tutti, non è che hai mangiato male, allora ti ammali di cancro. Hai mangiato male, ti ammali di diabete. Hai mangiato male, ti ammali di ischemia o cardiopatia. Però perché se questo è un denominatore comune, uno ha il diabete, l'altro ha il tumore e l'altro ha una cardiopatia? Qual è la differenza? Probabilmente, come dice lui, le costituzioni congenite dalla nascita. Allora, se l'essere umano ha 25.000 geni e il chicodrisone ha 50.000, l'essere umano fa la differenza su tutto grazie alle proteine, a quello che fa con le proteine, l'accensione e lo spegnimento dei geni, dove siamo tutti d'accordo. Quindi non è più il dogma del DNA, ma oggi sappiamo che il futuro si chiama epigenetica. Il software della nostra vita. Se prevenire è meglio che curare, allora dobbiamo incominciare a unire le forze. Unire le forze dove? Incominciare a avere chiaro che se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, beh, c'è qualcosa che sta cambiando la nostra vita. Uno, una disfunzione mitocondriale congenita dalla nascita. Probabilmente quindi a livello mitocondriale. Un altro aspetto fondamentale, sicuramente la nutrizione, è l'aria che respiriamo. Ma tutto questo non accade più in un ambiente come 100, 200, 300 anni fa. E quindi è tutto contaminato. Quindi per forza dalla carenza di ossigeno a carenze nutrizionali che i cibi che non hanno più, quelle sostanze specifiche, oppure tu non sai se sei carente di quella sostanza, mangi sempre le solite cose e quindi non hai l'apporto dei nutrienti importanti per permetterti di far funzionare le cellule in maniera ottimale. Quando andiamo in carenza di ossigeno, oltre al danno tessutale, vi ricordo le varie forme di ipossia, anemica, stagnante, istotossica, la riduzione di sintesi di ATP, danno ai tessuti e poi dalla stanchezza cronica all'infiammazione. L'ischemia di perfusione se ne tiene poco conto, si tiene poco conto il fatto che mantenere un livello ottimale di ossigeno è indispensabile per la vita. Non quando siamo in fin di vita. Prima. Quando siamo in fin di vita ci danno la mascherina, no? Dice, dammela prima perché può darsi che faccio un po' di prevenzione, no? Perché se io vi dico di fare un esercizio, di stare dieci minuti senza respirare, voi cosa mi dite? Non ce la facciamo. Si muore prima. Però senza mangiare possiamo stare qui quattro, cinque ore senza problemi, no? Fino a stasera. Allora l'ossigeno è la prima fonte di vita. E chi ce lo dice questo? Ce lo dicono ormai tutti i Nobel, non so quanti Nobel oggi, hanno affermato e hanno scoperto, riscoperto, che tre settimane fa, come vedete, il Nobel a medicina è andato proprio a chi ha scoperto l'importanza del ruolo dell'ossigeno a livello cellulare. La modulazione dell'ossigeno a livello cellulare mitocondriale. Interessa questo? Non interessa. No, questa è una cosa secondaria per molti. Non è primaria, è secondaria. Eppure senza ossigeno si muore. L'ossigeno è responsabile di tutte queste situazioni, dalla stanchezza cronica, ma il nostro cervello, se si riduce di pochissimo la pressione parziale di ossigeno, cosa fa? Basta poco, eh? Incomincia l'ischemia. Poi ritorna l'ossigeno e moralgia. Perché i nostri vasi non sono più in grado di tamponare l'eccesso di ossigeno a livello cellulare. E poi, quindi, ecco l'ultima frontiera che è l'epigenetica. Quindi l'ambiente, lo stress e l'eredità. E quando parliamo dell'edità non sono i soldi, perché pensiamo sempre ai soldi, eh? Non è quello. È quello che ci dona il nostro padre, la nostra madre e quello che hanno fatto le generazioni prima. E noi cosa stiamo facendo alle generazioni future? Un po' di danni. Le patologie neurogenerative, atelosclerotiche, metaboliche, i tumori sono in aumento. Sono accumunati da una carenza di ossigeno a livello cellulare mitocondriale. Sono in aumento, sì o no? Sì, soprattutto nei bambini. Vedremo oggi con il professor Burgio. Allora noi possiamo consigliare, far cambiare strada alle persone per uno stile di vita sano, certo, ma non possiamo fargli cambiare casa, lavoro, città. Pochi se lo possono permettere. E poi l'aspettativa di vita. Quando io dico aspettativa di vita parlo di qualità della vita. E' inutile stare a letto con la bomba dall'ossigeno o il farmaco, sì, che mi tiene lì in vita. Che è vita? No. Quindi la telomerasi, la rimetilazione del DNA, la perdita dei fattori specifici, vitamine, minerali, amminoacidi, tutto il discorso legato all'omocisteina, di cui pochissimi consigliano o prescrivono, pochissimi, visto raramente. Allora ognuno ha la sua verità oggi. Ognuno di voi, ogni medico, ogni terapeuta, ogni persona ha la sua verità. La sua verità fatta da condizionamenti sociali, familiari, culturali, formativi, di formazione, ma questo è normale. Però penso che la differenza la possiamo fare se uniamo le forze e incominciamo a ascoltare anche gli altri. Perché ognuno di noi può portare un contributo importante secondo la sua esperienza. E allora dobbiamo unire le forze. Noi in continuare a vedere cerchi e quadrati da una parte e dall'altra i cerchi. Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva. Cosa fare? Sicuramente se pervenire è meglio che curare noi incominciamo, dobbiamo salvaguardare questo ciclo. Come facciamo a fermarlo? Oggi, nonostante tutte le manifestazioni in piazza, nelle città, Tokyo, non vi ricordate? Da quant'è che parliamo di prevenzione di inquinamento? Trent'anni, quarant'anni, cinquant'anni? Avete visto qualche soluzione? Oltre che l'aumento dei livelli ammessi di inquinamento? Prima i livelli erano qua, oggi. Puoi respirare più inquinato. Se prima ti... Sì o no? È così. Ma ci stiamo prendendo in giro, veramente. Ma stiamo prendendo in giro le generazioni future, i nostri figli, i figli dei nostri figli. E questo è il problema. Noi dobbiamo iniziare a fare la prevenzione qui. Ma quale prevenzione, prima del concepimento, quando una donna oggi smette di fumare solo quando sa di essere incinta? Vuoi un bambino? Non fumi. E già iniziamo a togliere un carico, a eliminare un fattore importante. Vuoi un bambino? Non ti fai i tatuaggi. Non ti fai i piercing da tutte le parti. Sì o no? Eh no, è una moda, mi piace. Come dire, la Coca-Cola fa male. No, ma mi piace. Perché cellule sane si moltiplicano in maniera sana. E come ci insegna anche il grande Pier Mario Biava, l'epigenetica conta soprattutto a livello embrionale. Dove noi, se abbiamo cellule sane, possiamo riprogrammare le cellule in maniera sana. E questo è un libro bellissimo, potete scaricare. che è Ambiente Salute di Ernesto Burgio, dove viene spiegato in maniera proprio specifica quello che vi sto raccontando in maniera divulgativa, cronistica. Volete fare, qualcuno vuole fare, poi naturalmente vi lasceremo tutte le slides, poi vi stiamo facendo i video. Allora, vi dico solo che in Europa 500.000 morti, morti premature, in Europa e in Italia naturalmente non ci facciamo sfuggire i primati, siamo al primo posto. Non abbiamo mica che... Primo posto, per mortalità premature, 500.000. L'Aerce ce lo dice, guarda che nella comparazione ai tumori conta l'epigenetica. Ma come? Eh sì, e perché non ce l'hai detto 20-30 anni fa questo? Perché certe cose si conoscono ormai da tanto tempo. Ma conta solo nell'epigenetica o possiamo dirlo anche per le malattie cardiovascolari, il diabete, l'infiammazione cronica, eccetera, eccetera. Vale per tutto, no? E le mutazioni sono trasmissibili. Qui si parla di terza, quarta generazione, ma come avete visto ci sono degli studi che ormai stanno dimostrando che le trasmissioni sono trasmissibili anche alla quarta, quinta generazione. E come ci arriva questa quarta, quinta generazione? Solo con la chimica e la biochimica? Penso proprio di no. C'è qualcos'altro che trasmette questa informazione. Informazione. Un segnale sbagliato che poi fa i danni a livello fetale. E lo vedremo con il professor Burgio. Distruttore endocrine, metalli pesanti. Già a livello fetale come fa a svilupparsi un feto, un bambino dentro un ambiente così inquinato? Com'è possibile? E queste sono le statistiche. Si arriva fino a 84.000 morti per inquinamento dell'aria, 170.000 morti per i tumori, 230.000 morti per malattie del sistema circolatorio. Ma i problemi in Italia si parla solo di morbillo. È assurdo. Sì o no? Io, beh, sì, può essere un problema, non entro nel merito, ma i problemi sono molto più gravi sopra. Anche i puntori di sette sono più importanti. E le fonti sono ufficiali, l'Istituto Superiore Sanità e tutte le associazioni. Quindi le fonti sono ufficiali di quello che vi sto dicendo. E infatti il Senato della Repubblica ogni anno fa uscire questo trattato, 190-195 pagine, dove si parla dell'effetto di inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, malformazioni fetali, neodatali e l'epigenetica. Avete mai letto questo trattato? Andate sul Senato, scaricate questo PDF, 190 pagine. Beh, ce lo dicono loro. Però poi naturalmente il problema è la dieta. Giusto? Eh no, non è la dieta. È l'inquinamento prima della dieta. L'inquinamento. Chiaro, la dieta è importante per combattere l'inquinamento. Se la fai a dieta ottimale. Infatti, qui lo dice, si sottolinea che la letteratura scientifica è evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma e fremofletale, quindi competenziale conseguente negativi a carico di sviluppo di infezionazione di malattie dell'infanzia attraverso la trasmissione transgenerazionale. Naturalmente non è solo colpa delle madri, ma anche dei padri, perché ho scoperto alcune ricerche importanti che comunque nel momento del concepimento, a livello del liquido seminale, si passano sostanze tossiche. Come ci insegna anche Luigi Montano, che è uno dei massimi esperti di questo. e proprio la settimana scorsa mi ha fatto vedere ricerche importanti. E quindi contaminazione della catena alimentare, poi tutti gli inquinanti, le malattie già conosciute, provocate da questi inquinanti. In questo libro che vi ho presentato, c'è già tutto. Esposizione materna a pesticidi, alterazione e sviluppo genitale. Ne vogliamo parlare? Livelli di pesticidi nel latte materno, erano sicuramente più alti nei ragazzi con criptorachitismo. Contaminazione da cibo sano. 19 dei pesticidi nella frutta, nella verdura. Qui 38. Invece nell'uva, 80. Però, andiamo sul supermercato, si fa prima. Non c'ho tempo. Interferenze endocrine, modulatori epigenetici. Questa è una foto interessante, eh? Fateci caso. Inquinamento a pesticidi. Cambiano la pubertà delle bambine. Nel VazSano, studio di pediatria per il Ministro della Salute, è nato lo studio preliminare, praticamente uno studio sulla presenza di plastiche nelle urine dei bambini. Ancora. Prematurità. Bambine a dieci anni. Nove anni. Otto anni. E poi il regalo, no? Questo è quello che, non so se lo conoscete, eh? Priolo. 2500 bambini nati malformati. Perché per 50 anni hanno scaricato di tutto di più a mare, senza controllo. E poi c'è Brescia, che è la città più inquinata in Europa, che stanno nascendo bambini malformati. Torino. E c'è Milano. Allora dobbiamo rimettere a moto questo meccanismo. perché l'unica via ci rimane rafforzare il sistema immunitario. Non possiamo cambiare l'ambiente. Ci hanno preso in giro da 20, 30, 40 anni. Noi dobbiamo incominciare a difenderci. Sì o no? Eh? Abolire lo zucchero. Soprattutto i bambini. Non possiamo vedere bambini che si buttano 35 grammi tre volte al giorno di zucchero. Non è assurdo. È veramente assurdo. Lo zucchero è veleno. Non è vita. E poi 467 mila morti l'anno in Europa per inquinamento. Sono dati ufficiali, eh? L'inquinamento prende il controllo del DNA, aumenta le malattie cardiache e respiratorie. 1,7 milioni di bambini muore ogni anno per inquinamento. 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. I metalli pesanti, i danni da metalli pesanti. Qui abbiamo tantissimi esperti. Andrea Del Buono che tantissimo ha fatto in Italia per questo insieme alla Maria Elena Ferrero insieme a chi fa terapia calante che conosce quanto sia importante disintossicare le persone da questi metalli e il ruolo di questi metalli. Compriamo pubblicità e viviamo in un mondo malato. Siete d'accordo? E allora questa è la fotografia che ci dobbiamo portare non a casa e dire vabbè e metterla lì guarda che bello no dobbiamo iniziare a creare cultura a cambiare la mentalità delle persone e poi i campi elettromagnetici i bambini guardate cosa stiamo facendo i bambini non come noi che per 20-30 anni non abbiamo avuto il telefono pensate ai ragazzi che dormono col cellulare si alzano col cellulare col cellulare sotto il cuscino guai che glielo toglie i genitori non hanno più il coraggio di dire no questo cellulare non lo usi di notte te lo tolgo dalla stanza dove dormi spengiamo wifi stacchiamo la televisione sì o no? chi è che sa questo coraggio di farlo? no poverino come poverino? gli stai bruciando il cervello ma che poverino e qui probabilmente ci sono tanti studi alcuni dicono guarda fa malissimo altri no dai non fa nulla figurati vabbè se nel dubbio è meglio prevenire preveniamo non aspettiamo di essere certi che faccia male vabbè allora adesso incomincia a toglierlo quando? è troppo tardi e poi c'è il forno microonde per le case ci sono wifi arriva il 5G e quindi viviamo qui e dormiamo qui non solo loro anche noi e poi l'acqua che beviamo siamo 70-80% di acqua dobbiamo lavorare sull'acqua sui danni che i campi elettromagnetici fanno alla nostra acqua oltre a tutta l'aria l'inquinamento le diete sbagliate le carente c'è di tutto e di più dobbiamo fare la somma perché è la somma che fa il totale malattie linfoma le ocemie e le ome in aumento questo è uno studio sui militari dovuti a campi elettromagnetici e quindi l'ambiente agisce sui geni sì o no? certo blocca l'osolutamento a livello istonico quindi inizia le malattie l'infiammazione e poi le malattie allora se dobbiamo incominciare a diventare saggi per evitare i problemi non intelligente per risolverli perché gli strumenti per fare diagnosi di malattia oggi ce l'abbiamo sì o no? quindi non dobbiamo inventare un altro strumento per fare diagnosi dobbiamo inventare uno strumento avere uno strumento a disposizione per fare prevenzione per capire cosa ti sta danneggiando sì o no? se no continuiamo a rimanere sulla ruota dei cricetti eh? quando smetto di quando esco dalla ruota ecco l'epigenetica incominciare a rafforzare il sistema immunitario iniziare a capire quali sono quei fattori che contaminano che minacciano la mia salute che minacciano le mie cellule siamo centomila miliardi di cellule e tutto inizia qua dobbiamo lavorare sul DNA mitocondriale sulla carenza di ossigeno dobbiamo lavorare sul fatto che le malattie iniziano a livello cellulare dove vivono le cellule la membrana cellulare ci sarà una lezione specifica meravigliosa sull'aspetto della membrana cellulare questa come si dice vista vista sul mondo perché poi è di qui che noi gestiamo tutto i gricocalici non ne parla nessuno di gricocalici microbioma tutto il condizionamento del microbioma che poi passiamo ai bambini e quindi la lucky gut l'intestino permeabile ma non solo l'intestino c'è la bocca c'è la pelle l'intestino c'è la vagina c'è la pelle c'è tutto quindi non possiamo solo pensare all'intestino c'è tutto sempre una visione a 360 gradi e oggi noi abbiamo una mappatura epigenetica interessante per avere quelle indicazioni per intervenire prima che ci siano dei danni e questo lo fa il report che ci dà S-Drive molto interessante e poi il DNA mitocondriale che decide la longevità le malattie le disfunzioni mitocondriale sono legate a tutte le patologie ormai gli studi stanno andando in questo senso la malattia mitocondriale influenza la microbiota quindi parte tutto dalla cellula la microbiota guardate i risultati portano l'idea che le mutazioni di mite DNA ereditarie per via materna influenzano sia il microbiota intestinale sia le malattie a esso correlate quindi non è solo un discorso di dieta e se hai una disfunzione mitocondriale il motore non va non gira e tu continui a fare benzina no? prima metti a posto il motore e questo ce lo dice vedete un nuovo paradigma delle disfunzioni mitocondriale delle patologie negative e ancora mitocondrio il target per rispondere all'inquinamento ambientale e poi le fondazioni di medicina mitocondriale ci dicono questo allora dobbiamo ricaricare le nostre batterie non quelle del cellulare che andiamo in panico quando non c'è più campo o non è più carico dobbiamo cominciare a pensare a noi attenzione a quello che fanno le madri e i padri per la trasmissione la fecondazione l'infertilità maschile dovuta a una disfunzione mitocondriale oggi siamo un popolo di infertili ma i ragazzi hanno una disfunzione mitocondriale a livello del liquido seminale molto alterato non ci sono più spermatozoi la conta del spermatozoi è bassissima come ci dice in corno gli studi Luigi Montano sta facendo dei lavori importanti ha pubblicato numerosi lavori uno su 450 bambini 16 anni nelle scuole e cosa è successo? è scoperto che questi nonostante facessero una vita sana tra virgolette non fumavano mangiavano non vivevano in un ambiente quasi sano c'è niente di sano insomma avevano la disfunzione del liquido seminale molto alterata con quanti monanti pesticidi benzene metalli pesanti allora dobbiamo far ripartire la nostra energia allora se questo accade una mela noi prendiamo la mela la buttiamo via già siamo d'accordo? se accade le cellule non ce ne accorgiamo e ce ne accorgiamo troppo tardi noi dobbiamo preservare questa vita questa salute non questa questa già incomincia a danneggiarci allora dobbiamo lavorare su tutti questi fattori che abbiamo visto e gli interventi li sapete questi sono interventi possibili per la prevenzione certo tutti lo fanno alcuni lo fanno e questi interventi possibili a supporto e terapia qual è meglio fare questo o questo ma quanti ci pensano a questo ecco che noi oggi presentiamo qui siamo qui a fare questo corso di formazione di approfondimento proprio per parlare di come funziona S-Drive e cosa possiamo fare con un test epigenetico che possa mappare quei fattori che creano quelle problematiche e un aiuto ce lo dà il capello già utilizzato conosciuto non c'è bisogno di riparlare dell'importanza del capello che prima hanno tutti distrattato noi poi adesso dicono ma il capello è molto interessante per vedere se una persona fa uso di sostanze stupefacenti è un biomarker fondamentale per questo il capello è importante per valutare se uno ha intossicità di metalli pesanti e se lavora in ambienti inquinati se ha tossicità eccetera il bulbo del capello è ancora più sensibile perché? perché è vivo quindi è ancora più sensibile e risponde al fatto che ancora ha delle la possibilità c'è la possibilità ancora di leggere le frequenze di questa di questo bulbo e se hai il sistema giusto le leggi è un po' come dire come facciamo ascoltare la musica delle frequenze radio presenti in questa stanza cosa utilizziamo? una radio una rice trasmittente noi non siamo in grado di adesso di ascoltare la radio però se abbiamo lo strumento giusto si sintonizziamo e ascoltiamo la radio allora se abbiamo lo stesso lo strumento giusto che si sintonizza si sintonizza con le frequenze giuste della persona noi conosciamo mappiamo leggiamo le informazioni che sono nel bulbo cosa facciamo con l'elettrocardiogramma misuriamo un onda con l'encefalogramma stessa cosa con la risonanza magnetica nucleare andiamo andiamo in risonanza con l'acqua l'ione idrogeno della persona in risonanza quindi noi possiamo se abbiamo lo strumento giusto leggere queste cose lo sta già facendo la NASA è interessante no? la NASA è un è un un'organizzazione importante e lo fa sui follicoli per valutare l'impatto ambientale dei astronauti lo fanno già Riccardo biomarker sulla psichiatria per mappare le problematiche di questi ragazzi allora prendiamo quattro follicoli dietro alla nuca perché la zona occipitale è quella più ricca di informazioni e che naturalmente è connessa a testo connettivo tessuto nervoso che comprende il midollo e i nervi e questo ci permette di leggere delle informazioni precise le mettiamo su uno scanner lo scanner emette uno spettro di frequenze e poi vedremo col professor Spaggiari come funziona lo spettro di frequenze permette di andare in risonanza con le frequenze del cappello che abbiamo messo nella bobina e la bobina lavora per risonanza come una radio va a risonanza con le informazioni del bulbo e crea un report un report che ci permette di avere preziose segnali un po' come la medicina di segnale se quello che mangi ti dà dei segnali giusti o sbagliati anche gli stessi segnali di interferenze dovute dovute alle carenze di minerali vitamine i cibi non è un test di intolleranze allergie per carità no è incompatibilità amminoacidi acidi glassi essenziali indicatori di esistenza di esistenza del gas intestinale l'impatto ambientale quindi aria metalli pesanti radiazioni mi sono dimenticato di parlare del radon di cui nessuno parla eppure se vivi negli scantinati lavori negli scantinati lavori a primo piano c'è una percentuale di radon molto dannoso per la salute delle persone molto dannoso andate alla asla vi fate dare il mappatore di radon che è di plastica lo tenete lì qualche giorno poi glielo riportate per capire se nella vostra casa o dove lavorate c'è presenza o no di radon l'organizzazione mondiale della sanità dice che è una delle prime cause di malattie a livello polmonare e non solo anche tumorali abbiamo i certificati FEDA cosa possiamo dire di questo strumento serve per promuovere la buona salute promuovere uno stile di vita sano motivare incoraggiare sostenere raggiungimento obiettivi salute e benessere non è una diagnosi e già i centri MIR di medicina integrata alla riproduzione lo stanno già utilizzando da qualche anno due anni e poi c'è questo meraviglioso progetto di ricerca grazie al presidente che oggi è qui presidente che voglio ringraziare Jan Lyons siamo riusciti a portare questo test è stato fatto un bando e nell'ambito di questo programma di ricerca diverse tecnologie sono state sottoposte a concorso a condurre studi scientifici tra questi via il test epigenetico sul benessere della salute siamo stati finalisti e selezionati come tecnologia ufficiale per realizzare un progetto così entusiasmante Università Granata Città Granate è partito uno studio per la qualità della vita e la prevenzione non la diagnosi di malattia la prevenzione su centomila persone wow e hanno scelto questa tecnologia perché è semplice non è invasiva è veloce prendete il bulbo del capello lo mettete sul bioscanner sullo scanner lo scanner 10 secondi fa la mappatura e dopo 12 minuti avete il report 12 minuti quindi è un grande valore aggiunto per il vostro servizio posizionamento un campo del benessere epigenetico avanguarda incentrata su ultime scoperte delle scienze del benessere è più facile a capire interpretare e quindi ti permette di conoscere la persona in modo migliore 3 minuti è programma basato su un piano nutrizionale naturale la biofisica è il futuro perché è il futuro perché non possiamo solo guardare il rovescio la medaglia da una parte ma anche il rovescio della medaglia quindi la chimica la biochimica non può funzionare se prima non c'è un segnale biofisico non c'è niente da fare e io dico sempre ma faccio delle domande e dico ma tu come vedi come fai a vedere con la chimica la biochimica o succede qualcosa di diverso che sono la luce che entra e la luce cosa è chimica no colpisce il nervo ottico e succede qualcosa di straordinario dentro il nostro cervello no che crea delle cose meravigliose crea le persone come crea sì qui dentro si crea l'immagine di una persona sì o no e come fa con la chimica e la biochimica penso che sia quasi impossibile ci sono fotoni biofotoni c'è la luce e tutto il resto che funziona così però tutto viene portato alla luce di fronte alle persone a compartimenti stagni non si uniscono mai i pontini allora secondo la rivoluzione quantistica ci sono già c'è questa la quantum lab la sapienza si studia questo quantum lab si studia la rivoluzione quantistica dal 1951 istituto nazionale di fisica nucleare dove c'è un programma europeo di ricerca sulle tecnologie quantistiche dove si parla dell'impletazione dell'informazione della quantistica come supporto importante integrato integrato perché qui facciamo integrazione non è che una cosa è meglio di un'altra è non far finta che il resto non esista dobbiamo dobbiamo mettere insieme le cose ecco algoritmi quantistici università la sapienza istituto nazionale di fisica nucleare algoritmi quantistici e cosa come funziona il sedrive come fa a estrapolare questi dati grazie agli algoritmi quantistici nel cloud che è a Hamburgo in Germania e questa università la sapienza pensate parla di entanglement parla di quantum di quantistica come? eh sì e allora noi dobbiamo ripartire dalla salute delle nostre cellule dobbiamo incominciare a lavorare sulla carenza di ossigeno sull'integrazione ottimale di biodisponibilità assimilazione la modulazione fisiologica c'è un libro questo se volete qui c'è scritto tutto quello che sappiamo con molta umiltà di alcuni importanti traguardi raggiunti con la ricerca scientifica su come contrastare la carenza di ossigeno che è la prima cosa importante per far funzionare il motore eppure l'ossigeno è la cenerentola dei nutrizionisti e dei medici non ci pensa nessuno e ce lo diceva già nel 31 Varbro premio Nobel della medicina gli studi sono andati avanti nel 2003 hanno scoperto che la carenza di ossigeno provoca metastasi è scritto vedete il meccanismo c'è la metastasi cancro è favorito dalla mancanza di ossigeno però facciamo dell'altro non ci interessa funziona quindi non va bene e ancora 21 paesi nel mondo 5 anni di studi per dire che la carenza di ossigeno è fondamentale per far funzionare meglio le terapie e ancora la carenza di ossigeno state attenti perché è implicata nella modificazione epigenetica allora moduliamo questa ossigenazione queste sono le varie cose che facciamo quando è troppo tardi sì o no oltre alla mascherina noi dobbiamo lavorare sulla modulazione self food è uno dei prodotti più studiati oggi a livello nutraceutico al mondo a oltre 13 pubblicazioni che hanno dimostrato che lavora a livello endoteliale lavora a livello mitocondriale queste sono le cellule in ipossia prima e dopo attiva il dna mitocondriale e quindi è importantissimo per la prevenzione per il supporto non è un farmaco non cura le malattie ma è fondamentale per la salute cellulare questi sono gli studi su sclerosi multipla fiume biologia morbido di alzheimer e quindi attivazione mitocondriale qui dice gli studi pubblicati significamente superiore rispetto a quelli degli altri integratori comunicamente utilizzati studi pubblicati su PAMED e poi lo studio uscito a settembre sull'effetto di self-food come supporto per migliorare la radioterapia e la chemioterapia oltre del 70% della riduzione della massa tumorale quindi preferite integratori ad altissima biodisponibilità e assimilazione self-food si assume a gocce come se a mettere un bicchier d'acqua ci sono tutti gli studi se volete approfondire basta che ci chiamate il messaggio che voglio dare concludendo è questo se è vero che il tuo benessere dipende da te inizia ieri non domani la dieta domani la dieta lunedì si poi lo faccio per venire a migliorare inizia ieri oggi comincia a creare cultura nella famiglia nelle scuole nelle case con i pazienti perché la vita è davvero semplice eppure si stiamo complicandola tutto vibra anche noi tutto si muove tutto vibra niente inquieto è tutto energia tu sei energia il tuo corpo è energia ogni tuo organo è energia il tuo campo magnetico è energia sì o no? questo lo sappiamo e allora amiamo la vita perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte e mi piace concludere con un regalo che ci ha lasciato comunque al di là delle religioni che il fatto che l'intelligenza priva di amore ti rende perverso ma soprattutto la vita senza amore non ha senso grazie di cuore buon lavoro buona giornata buon corso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti